Buonasera da Marco Capulli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Ha preso il via oggi con la Marcia della Pace da Arezzo fino al borgo di Rondine, lo Utopic 2023, il festival internazionale sul conflitto promosso dall'Associazione Rondine Cittadella della Pace, giunto alla sua settima edizione. La Marcia ha coinvolto oltre 2.000 studenti delle scuole toscane che si sono uniti ai giovani di Rondine. Il servizio. Inoltre 2.000 in marcia tra studenti, cittadini, istituzioni per chiedere la pace, non solo in Ucraina ma in tutti i conflitti del mondo. Parte così la quattro giorni di Utopic Fest nel borgo di Rondine. Bisogna dare un segnale forte che non ci arrendiamo, che non siamo indifferenti e che quello che succede di brutto nel mondo noi non ci adagiamo a questa idea, noi non restiamo indifferenti come ci ricorda Liliana Segre. E quindi camminiamo, perché in giorni di festa non possiamo dimenticare le tragedie del mondo. Tanti personaggi che parteciperanno a questo festival, da Brunello Cucinielli al sottosegretario dell'ONU, arrivato a Rondine dicendo sosteniamo le iniziative della Santa Sede per trovare la pace in Ucraina. Ma l'intervento più atteso è stato quello del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, reduce dal suo viaggio a Kiev. E direi tanta 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 sofferenza, la necessità di una pace giusta, tanta sofferenza e la necessità a cominciare dai più piccoli, a cominciare dai bambini. La Chiesa può essere ponte, cioè può mettersi in mezzo ai contendenti, a chi è nella lite e nella guerra per cercare di dare un abbraccio a entrambe le parti e per cercare di riaprire le strade, i sentieri del dialogo, del guardarsi negli occhi, del cercare non il bene dei potenti ma il bene della gente. Qui a Rondine studenti ucraini e russi riescono a convivere a loro. Abbiamo chiesto allora qual è la strada della pace. Secondo me sì, è importante di parlare di pace, ma allo stesso tempo è importante di capire su che base questa pace è possibile. E quindi questo primo passo che il Vaticano ha iniziato per me è molto importante e significante, ma anche in questo dialogo tutti i parti, io come Ucraina, la mia parte devo essere ascoltata e devo essere compresa in tutta integrità ma anche complessità. E' difficile perché non sono un ripresente del governo russo, ma penso che tutto il dialogo comincia tra i popoli e quando i popoli parlano noi possiamo influenzare il nostro governo di parlare più, di essere più amicabile. E in queste quattro giorni è grande la mobilitazione nel mondo del volontariato in supporto alla realizzazione del Utopic Festival, tra le varie associazioni che contribuiscono alla realizzazione logistica, anche il KAMAE, il Club Amatori Macchine Agricole d'Epoca. Greta Settimelli. Anche il KAMAE ha il Utopic Fest, qual è il vostro contributo di oggi? Il nostro contributo è il food e raccolta fondi per questa manifestazione. Qui c'è tutto lo staff KAMAE, come vedi siamo indiversi perché la cosa è impegnativa e il KAMAE non si tira mai indietro, nel volontariato non ci siamo fino al collo. Oggi vi occupate della buona tavola toscana? Lo facciamo via via sempre nei nostri ritrovi, funziona, preferiscono la clientela e l'abbiamo fatta anche qui. Poi insomma ci vogliamo, io non è per difendere la terra retina ma la porchetta è più buona quella da retina. Certo, quella del Monte San Sabino è meravigliosa, certo è buonissima. Ecco sono quattro giorni in cui da Arezzo, da questo borgo, da tutta la città parte un grido insomma vogliamo la pace nel mondo non solo tra Ucraina e Russia ma anche negli altri conflitti. Eh sì, questo è un impegno grande, è un impegno grosso, noi ce la mettiamo tutta, siamo piccoli, diamo il contributo che possiamo, speriamo che ci ascoltino, chi di dovere che ci ascolti e questo è il nostro impegno. Ecco lei ha toccato il tasto del volontariato a retino che in questi giorni, in queste settimane ha dato una grossa mano anche in Emilia Romagna. Sì, noi ci siamo, ci siamo anche come Ampas, perché noi siamo volontari anche Ampas e quindi siamo lì perché veramente qui siamo in mezzo al fango anche noi oggi, però è una cosa veramente tremenda quello che è successo in Romagna e quindi questo sta a significare che dal volontariato nasce anche una proposta e una richiesta di curare di più il territorio. Ecco, questo noi vogliamo dire. E noi che siamo camae, che veniamo dalla civiltà contadina, il territorio e l'ambiente è stato creato proprio dalla civiltà contadina e quindi bisognerebbe tenersene cura. Ecco, ma chi lo cura invece il volontariato? Chi cura il volontariato? Eh, questa è una bella domanda. Preferivo che tu non me la facessi, però ormai che me l'hai fatta dirò che con il terzo settore qualcosa è cambiato, devo dire la verità, perché almeno da un punto di vista giuridico, formale, qualcosa è cambiato. Però l'impegno è tanto e il nostro nemico principale rimane sempre la burocrazia. Questa è fondamentale. La prima delle battaglie è quella contro la burocrazia. Come da prassi è stata aperta un'inchiesta coordinata dalla PM Chiara Pistolesi da parte della Procura di Arezzo sull'incidente mortale di ieri avvenuto a Patrignone intorno all'ora di pranzo. L'ipotesi seguita da inquirenti è quella di omicidio stradale, ma eventuali responsabilità sono tutte da accertare. Il tragico scontro è avvenuto tra una moto Kawasaki e un autocarro che trasportava materiale da giardinaggio lungo la strada provinciale 43 della Libia, tra Ponte alla Chiassa e Quarata, all'altezza dell'intersezione con la strada comunale di Patrignone. Nell'impatto frontoraterale ha perso la vita il centauro di 31 anni Daniele Saltapari. Gli inquirenti hanno ascoltato al momento l'unico testimone, il collega del 45enne casentinese alla guida dell'autocarro, in quel momento al bordo del mezzo e si stanno cercando immagini e eventuali telecamere della zona. Parliamo di un altro incidente avvenuto però quest'oggi. I mezzi del 118 dell'Asde Toscana Sud-Est sono intervenuti oggi alle 15.50 nel comune di Sansepolcro lungo la statale 73 per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto, ferito un uomo di 28 anni, trasportato in codice giallo dal Pegaso 1 a Careggi. Sono intervenuti sul posto l'automedica di Sansepolcro, la misericordia di Sansepolcro, i vigili del fuoco e i carabinieri. Parliamo invece di infortuni sul lavoro, ne sono avvenuti due. I mezzi di soccorso dell'Asde Toscana Sud-Est sono intervenuti alle 16.54 per un infortunio sul lavoro nel comune di Foiano della Chiana, coinvolto un uomo di 27 anni che è stato trasportato con Pegaso 2 alle scotte di Siena in codice giallo. Intervenuti sul posto l'ambulanza infermierizzata Avis-Foiano e i carabinieri di Cortona e il PISL. Oltre a questo anche un altro incidente sul lavoro è venuto questa mattina in Casentino, un operaio è rimasto incastrato sotto un blocco di cemento armato nel piazzale della Baraclit, nota azienda produttrice di prefabbricati. L'infortunio è avvenuto questa mattina alle ore 9.20 a Soci, l'uomo un 59enne è rimasto ferito a una gamba, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'emergenza urgenza della misericordia di Stia e di Bibbiena. È stato quindi attivato l'elisocorso Pegaso per il trasporto dell'uomo in elicottero al CTO di Careggi a Firenze in codice giallo. Bene, dopo purtroppo questa serie di incidenti parliamo di sanità, di papillomavirus perché il 9-10 giugno in tutta la Toscana ci sarà l'open day per le vaccinazioni contro questo virus. Chiara Sadotti. Un open day il 9-10 giugno in tutta la Toscana per dare la possibilità a chi ancora non l'avesse fatto di vaccinarsi contro il papillomavirus. Il vaccino rappresenta infatti un'arma di prevenzione contro il tumore al collo dell'utero per le donne e delle mucose genitali per i maschi. Si tratta di tumori che in Italia provocano oltre mille decessi l'anno. Nella giornata di DNFD ci sarà l'intervento dei pediatri di libera scelta, sabato tutte le sedi vaccinali ASL, aperto, orario continuato e senza prenotazione per garantire la vaccinazione. 23 i centri vaccinali che hanno aderito in tutta la regione. Nella Retino sarà aperto quello di Arezzo, il poliambulatorio di Bibiena e quello di Sansepolcro ed infine l'ospedale della Gruccia. Questa vaccinazione protegge da malattie sessualmente trasmesse, è rivolta a persone di sesso femminile date, nate dopo il 1993 o maschi nati dopo il 2006 che comunque hanno 9 anni di età. È una vaccinazione che protegge da malattie sessualmente trasmesse. Do una statistica, circa 8 donne su 10 vengono a contatto con il virus HPV nella loro vita e il virus HPV è responsabile anche del tumore della cervice uterina, un tumore importante e la vaccinazione ha indubbiamente un valore protettivo. Da qui l'importanza della vaccinazione. In Toscana la copertura vaccinale è superiore che nel resto d'Italia. Ma siamo ancora intorno al 50% delle persone che sono suscettibili alla vaccinazione. Ennio Duranti e Massimo Sesani, rispettivamente presidente e amministratore delegato delle farmacie comunali di Arezzo, sono stati ricevuti dal vescovo Monsignor Andrea Migliavacca per presentare i 60 anni di attività dell'AFM. L'incontro ha rappresentato l'occasione anche per condividere i prossimi progetti a partire dall'inaugurazione della farmacia comunale Due Trionfo che sarà trasferita nella nuova sede di Via Colombo ad Arezzo. E andiamo a parlare di un gioco stupido perché ha bloccato la circolazione ferroviaria nella tarda serata di ieri. Alcuni giovani si sono vintati l'idea di giocare a pallone lungo i binari della tratta ferroviaria Firenze-Roma all'altezza di Castiglione-Fiorentina. È successo nella tarda serata di ieri. I numerosi sono stati disagi registrati dai pendolari a bordo dei regionali che sono rimasti fermi. Per circa un'ora di intervenire sono stati gli agenti della polfera e alla vista dei poliziotti giovani si sarebbero dati alla fuga. Al momento le forze dell'ordine stanno portando avanti le indagini per risalire all'identità dei responsabili dell'accaduto i quali rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio. La circolazione è ripresa poco dopo le 19.45. Intercity e regionali hanno riportato ritardi fino a 80 minuti. Cambiamo decisamente argomente, parliamo del cambio di sede a Montevarchi per Charity Shop della Fondazione Monnalisa che prosegue i suoi progetti di inclusione. Il nostro scopo è quello di cercare di immettere, includere il personale diversamente abile o che abbiano qualche altra necessità nel tessuto cittadino e questo ci sembra che avvenga. Alcuni dei ragazzi diversamente abili hanno trovato anche lavoro presso un'azienda locale, quindi questo ci dà una grande soddisfazione. Un progetto di inclusione al Charity Shop di Montevarchi dove alcuni degli ospiti dell'Istituto Madre della Divina Providenza dei Padri, passionisti di Agazzi, grazie alla sinergia con la Fondazione Monnalisa Ollus, sono stati inseriti come assistenti commesso. Abbiamo attivato una bella collaborazione con l'Istituto Agazzi che ci permette di avere due volte a settimana a un gruppo di ragazzi con disabilità intellettiva, sempre assistiti dai loro psicologi, che appunto rendono il nostro spazio uno spazio molto interattivo, un vero e proprio spazio inclusivo, dove i ragazzi quindi aiutano nell'andare a trovare il prodotto giusto, nel aiutare a vestire un manichino piuttosto che nel fare un pacchetto per il cliente. L'idea è proprio quella di raccontare un progetto che è diverso da un progetto commerciale ovviamente, ma è un progetto che sostiene una buona causa. Inoltre abbiamo anche una bella collaborazione sempre con le scuole, le scuole del territorio e nello specifico abbiamo sempre attivo la convenzione con Isis Valdarno, l'Istituto San Giovanni Valdarno, nonché abbiamo ora attivato da circa una settimana l'accordo con nel liceo artistico di Arezzo Piero della Francesca, dove quattro ragazzi appunto ci aiutano a rendere ancora più bello il nostro charity con delle decorazioni che vengono fatte appunto nelle nostre pareti eccetera per abbellire il nostro charity shop oltre i nostri begli abiti e bei vestiti che abbiamo. Il charity shop della Fondazione Mona Lisa Ollus di Montevarchi era stato inaugurato nel gennaio 2021, oggi trova il suo spazio in una nuova location. Ho chiesto appunto a Piero di portare questa virtuosa progettualità anche nella nostra città, adesso è un nuovo fondo, una struttura rinnovata, sempre in via Roma numero 35 in questo caso dove si continua questo progetto, dove ci sono abiti bellissimi di Mona Lisa che tutte le mamme conoscono ma legate al sociale, legata alla collaborazione con le scuole superiori del territorio e con i ragazzi che hanno difficoltà, quindi un progetto che non posso esposare in pieno e che continuare a sostenere perché è un'opportunità sicuramente per tutta la nostra comunità e soprattutto per questi ragazzi che cominciano ad avvicinarsi al mondo del lavoro anche appunto facendo i progetti tra scuola e lavoro attraverso questa opportunità che viene data dalla Fondazione Mona Lisa e soprattutto per questi ragazzi invece con disabilità o con delle particolarità che devono iniziare invece ad avvicinarsi anche a nuove opportunità di socializzazione. Attualmente sono sette i charity shop della Fondazione Mona Lisa, altrettante i progetti benefici sostenuti. E credo che le istituzioni comprendano che è un altro modo di intraprendere mercato, cioè fare in modo che con l'aiuto di qualche azienda, perché onestamente credo che l'SPA dia una grande mano, però ci vuole tutto insieme, cioè volontari, società, ragazzi, istituzioni per fare la vera inclusione in un mercato. Si è concluso questa mattina, per quest'anno all'impianto AISA di San Zeno, il progetto Zero Spreco che ha coinvolto migliaia di studenti aretini. Chiara Sadotti Migliaia di piccoli studenti hanno partecipato a corsi di cucina, musica, teatro e tanti altri i laboratori per imparare la salute alimentare e il rispetto per l'ambiente. Si conclude così per quest'anno all'impianto AISA di San Zeno, il progetto Zero Spreco. Si chiude il lavoro di un anno scolastico, che abbiamo fatto per ora con le scuole primarie. Il prossimo anno abbiamo già avuto delle adesioni dalle scuole medie, quindi dalle scuole secondarie di primo livello. E lo faremo, lo faremo con loro, ma con questi ragazzi è stato veramente un piacere. I ragazzi della loro età sono particolarmente interessati a questo tipo di argomenti, all'ambiente loro ci tengono veramente tanto e quindi con noi hanno fatto questo percorso per cercare di comprendere dove si può risparmiare, dove si può cercare di ridurre il più possibile gli sprechi, dall'acqua, dal rubinetto, alla luce della classe, alla temperatura della classe e alla mensa. Ecco, tutti i progetti che tra l'altro prevedevano proprio un esame d'ingresso, un esame finale e che hanno tutti superato brillantemente. Una giornata di festa all'impianto a recupero totale anche con le premiazioni di due scuole Zero Spreco che si sono distinte per impegno e passione nelle buone pratiche anche attraverso l'adesione al protocollo Scuola Zero Spreco, una speciale certificazione verde che AISA Impianti ha ideato coinvolgendo 200 ragazzi e due scuole primarie. Sono loro il domani e quindi per parlare per loro vuol dire salvare il pianeta, cioè significa avere una visione diversa, un atteggiamento diverso nei confronti della natura. Ad essere premiati sono stati l'Istituto Sant'Agostino delle Suore Stigmatine di Arezzo e la Scuola Primaria Pratantico Istituto Comprensivo Piero della Francesca. I bambini sono entusiasti di questa esperienza, hanno imparato buone pratiche e soprattutto una nuova mentalità, questo era un po' il nostro obiettivo, che loro fossero i portavoce anche nelle famiglie. Esposti in occasione della giornata anche i disegni realizzati dai giovani studenti, la creatività che celebra i valori della tutela del pianeta e delle sue risorse. Alcuni di questi disegni saranno inseriti nel volume che illustrerà il bilancio sociale di AISA per l'anno 2022. I ragazzi si sono sbizzarriti con la loro fantasia a disegnare che cos'è per loro lo zero spreco. C'è chi ha disegnato direttamente AISA impianti e questo impianto, chi invece ha fatto vedere la terra e le sue varie sfaccettature. Ognuno ha dato pieno sfogo alla sua libertà. Zero spreco, infine anche ovviamente in cucina. Con cosa si fa il pane? Con la farina? La farina con cosa si fa? Con il grano. Il grano ce l'avete proprio davanti ai vostri occhi. Cosa hanno imparato questi bambini soprattutto sullo spreco alimentare? Beh soprattutto a non sprecare perché se si pensa che ben 76 kg l'anno di cibo buono va buttato è sicuramente un qualcosa sul quale riflettere e noi abbiamo riflettuto su questo. Quindi abbiamo cercato in casa che cosa era veramente lasciato, dimenticato, quindi fatto scadere e poi da lì siamo partiti per arrivare poi a fare dei piatti zero spreco che riuscissero a recuperare tutti gli ingredienti, dalle bucce di finocchio piuttosto che dal pane secco per poter appunto fare dei piatti che sono ancora eccezionali, buoni e ricchi di nutrienti. Ed è sempre più vicina la data del 17 giugno, giorno dove si scorrerà l'edizione notturna della giosta del Saracino. La novità principale sarà la consegna della lancia d'oro al quartiere vincitore che tornerà in tribuna. Domani nella riunione del Comitato per la Sicurezza sarà data l'ufficialità del cambiamento. Già a partire dalla prossima edizione si tornerà quindi alla situazione di 7 anni fa. Il terrazzino come luogo della consegna del trofeo ha funzionato a metà. Se è vero che i vincitori hanno sempre potuto festeggiare senza incidenti è vero anche che il balcone che da suborgunto non ha riscosso grandi consensi. Distante dal popolo, lontano dal clima di festa che ha caratterizzato il Saracino fin dagli albori, a molti dentro e fuori dall'ambiente giostra, non piaceva. Troppo complicata per motivi logistici la soluzione della fraternita e da più parti si è spinto per rispolverare il vecchio canovaccio, magari con qualche decisivo accorgimento in più legato alla sicurezza e alle incolumità dei presenti. Passiamo alla pagina sportiva con l'Arezzo calcio. Primo colpo di mercato dell'Arezzo 2023-2024. Si chiama Filippo Guccione, classe 92, esterno offensivo e mancino. Proviene da quattro anni di militanza nel Mantua che è anche la sua città. Con la squadra lombarda ha vinto il campionato di Serie D nel 2020 ma è stato retrocesso quest'anno di nuovo sempre con i biancorossi in Serie D. Guccione ha nel suo score in totale 105 presenze e 41 gol, 27 dei quali realizzati tra i professionisti. Prima aveva indossato tra le altre la maglia del Prosesto e del Bassano. Dinamico, veloce e bravo al dribbling, nel uno contro uno, abile sui piazzati. Guccione è un fantasista strutturato fisicamente che fa della tecnica e dell'inventiva la sua arma migliore. Alto 1,78 m, Guccione ha firmato con l'Arezzo un contratto della durata di due anni fino al 30 giugno 2025. Ma sentiamo le sue parole all'arrivo ad Arezzo. è una piazza che non ha bisogno di presentazioni e la serietà e la progettualità soprattutto di questa società non mi ha fatto pensare due volte ad accettare questa proposta. Per me è un nuovo inizio e lo inizio con un entusiasmo veramente incredibile. Sono un esterno d'attacco che può fare, se serve anche il trequartista, Mancino e spero di ripagare questa fiducia. Diciamo che direttori e allenatori non hanno bisogno di presentazione. Qualche ragazzo lo conosco perché ci siamo affrontati sui campi e non vedo l'ora sicuramente di iniziare questa nuova avventura. Questa Lega Pro è durissima, però la piazza di Arezzo sa come affrontarla, la società sta creando qualcosa di importante, quindi speriamo di iniziare subito nel migliore dei modi. Emaniamo in Ammaranto sempre con l'Arezzo Calcio, campionato di calcio nazionale Andri 19. La Juniors è stata fermata sull'1-1 dal Tau Alto Pascio nella gara d'andata valevole per gli ottavi di finale. Il 10 giugno ci sarà la gara di ritorno, gli Ammaranto di Bernardini hanno agguantato il pari all'88esimo con Artini. Altro evento importante in calendario per l'Arezzo Calcio, il torneo del centenario è stato presentato quest'oggi, 32 saranno le squadre formate da ragazzi esordienti, oltre 600 saranno i calciatori, ad Arezzo giocheranno anche baby calciatori di Roma, Genoa, Frosinone, Parma, Perugia, Pontedere ed altri club. In campo bambini e bambine delle annate 2010-2011, la finalissima è prevista allo stadio Città di Arezzo l'11 giugno. Ed è grande festa ancora per la SBA neopromossa in Serie B, siamo andati a vedere i festeggiamenti. E adesso un super mega applauso a chi ha guidato questa squadra da agosto a oggi a questo splendido risultato, il nostro coach Marco Evangelisti! La scuola Baschetta Arezzo ha festeggiato la promozione in Serie B, una festa ospitata alle caselle che ha visto la premiazione di tutte le categorie. La festa davanti alla città e alle istituzioni presenti, il sindaco di Arezzo e l'assessore allo sport del comune di Arezzo Federico Scapecchi. Un risultato storico per la città di Arezzo. Cerimonia di premiazione e di festeggiamenti per la Serie B, per le squadre giovanili, ma è stato anche un momento speciale per te, che dopo l'addio al basket è stata fatta una sorpresa particolare perché te la sei meritata in tutti questi anni di militanza con la SBA. Grazie, innanzitutto, grazie. È onorato. Sì, è un sacco di emozioni stasera. Pensavo di aver finito domenica, in realtà. Bellamente, parlavo con Gigi Bruttini, mi ha fatto questa sorpresa, sono rimasto veramente felice perché poi è stato un avversario, ora è un amico quindi sono contento di tutto il percorso. Bella serata, ci voleva, ma per la squadra, per tutti. E con questa notizia termina il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. A voi tutti, buona serata con i programmi di Arezzo TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti.